Le divinità di Naraka sono molte, ma spesso non ci accorgiamo della loro presenza. Se giochi a Naraka Blade Point ti sarai sicuramente accorto che c'è un'enorme mitologia dietro al titolo, e certamente non viene celata. Nella stessa introduzione del titolo vediamo due divinità a scontrarsi. Oggi andremo a parlare di un personaggio specifico che sembra poter diventare un dio più che un titano. Sì, sto per parlarti di Tianai. La sua ulti consiste nel trasformarsi in Vajira, o Vajra. Non saprei come pronunciarlo, lo chiameremo Vajira. Ma chi è Vajira? Attratto da questa trasformazione ho deciso di fare qualche ricerca e sono partito dal personaggio stesso. Tianai è un monaco, personaggio ovviamente di finzione, diventato famoso qualche centinaio d'anni fa per aver aiutato l'imperatore della fiamma Ikuria. Proprio grazie a Tianai l'imperatore salì sul trono ed il monaco diventò un suo guerriero, totalizzando un numero di successi innumerevoli. Nel 1587 però l'imperatore cadde e con esso il suo mentore, Tianai, sparì nel nulla. Quando gli eroi iniziarono a radunarsi sull'isola di Moogus per cercare la maschera dell'immortalità, essi realizzarono che tra loro c'era anche Tianai, che oramai era scomparso da Eoni. A quanto pare esso, una leggenda, era stato inviato dalle leggende stesse. Per quanto la storia sia effettivamente interessante, per quanto succinta nel sito di Naraka, non ci viene detto nulla riguardo alla sua trasformazione. Però ci viene fatto notare che il monaco è sparito per intere epoche. Primo fatto, è ancora vivo. Secondo fatto, non sappiamo quali arti esso abbia imparato nella sua scomparsa. Torniamo però al fulcro del nostro discorso, la sua trasformazione in Vajra. Sì, Vajira suonava troppo male. Non trovando nulla su Tianai, nel sito, ho iniziato a fare ricerche sulla presunta divinità che porta questo nome. Ebbene, non è una vera e propria divinità, o perlomeno, dopo un paio d'ora a cercare informazioni, non ho trovato niente di niente su un possibile Dio. Però ho scoperto cos'è il Vajra. Esso è un termine sanscrito che significa sia fulmine, sia diamante. Oltre che è un oggetto simbolico che lo rappresenta nell'induismo e nel buddismo tibetano, soprattutto nei rituali tantrici. Ed è questo. Lasciamo ovviamente stare l'oggetto simbolico e concentriamoci su cosa rappresenta questo termine. Abbiamo due opzioni. Induismo o buddismo. Nell'induismo il Vajra rappresenta il fenomeno del fulmine che viene brandito da Indra, re degli dèi. Nel buddismo invece rappresenta il simbolo della natura del reale. La trasformazione e l'uso nel buddismo diventa chiara con l'identificazione di quella natura con il concetto di vuoto. Il vuoto, la natura stessa dell'illuminazione, è come un fulmine ed è indistruttibile come il diamante. Questo concetto viene ad assumere un carattere così centrale nella speculazione buddista da dare il nome alla terza grande trasformazione del buddismo, con il... Parola impronunciabile? Sì, fino ad ora ho letto Wikipedia. Bravo, l'hai capito. Per ora ho scoperto insomma che il Vajra sta per diamante o folgore è che il buddismo Vajaryano, non so se esiste al maschile, viene anche chiamato del veicolo ad amandino. Informandomi un po' di più su questo tipo di buddismo ho scoperto una definizione molto interessante. Per buddismo, parola impronunciabile, si intende quindi quell'insieme di scuole, dottrine e lignaggi propri del buddismo Mahayana, che video complicato che ho deciso di fare e mi scuso per le pronunce, che accolgono ulteriori insegnamenti e mezzi abili che, a detta di questo tipo di buddismo, consentirebbero un rapido ingresso nella conoscenza o saggezza ultima e raggiungere l'illuminazione anche in questa stessa vita. Che sia finalmente la definizione che cerchiamo per capire cosa sia effettivamente la trasformazione di Tianai? Non ho ancora finito. Il termine Vajra, richiamato nel nome di questo buddismo, indica l'infrangibilità, l'immutabilità e l'autenticità della verità ultima. Corrisponde anche alla vacuità e quindi alla vera essenza di tutti gli esseri dell'intera realtà. La trasparenza del diamante indica anche che la mente illuminata è chiara, limpida ed oltretutto vuota. Tutto questo può effettivamente collegarsi a Tianai? A questo punto io ti direi anche sì. Ho scoperto infine che il termine Vajra viene usato anche come prefisso e tra le varie opzioni che ci vengono mostrate come esempio c'è anche questo termine. Vajrapani significa il portatore di Vajra. Ora direi che potremo effettivamente tirare le somme. Credo di avervi rincretinito abbastanza con tutte queste terminologie astruse che non so pronunciare, ma spero anche di avervi interessato e fatto appassionare ad un lato del gioco che magari nessuno ha mai analizzato. Sappiamo che Tianai è un monaco ed è sparito per molti anni. Non sarebbe impossibile, parlando di un personaggio immaginario, che esso sia effettivamente trasceso in un Vajrapani, ossia un portatore di Vajra. Unendo tutte le mie ricerche ed un po' di fantasie e speculazioni arriviamo così finalmente ad una conclusione che mi ha appagato, o perlomeno ha appagato la mia curiosità. Tianai ha abilità che gli permettono di evocare forme di pura luce. La sua trasformazione in titano può essere collegata dunque alla forma perfetta del Vajra. Dopo anni di allenamento o di una sua scesa al piano divino, esso ha pardonneggiato quest'abilità. Il nostro monaco ha raggiunto l'illuminazione, ma essendo alla fine della fiera un guerriero, esso ha unito la sua natura monastica e anche quella da guerriero. Ha raggiunto insomma uno stato superiore. Potremmo definirlo una sottospecie di guerriero perfetto, o meglio, il suo Vajra è la forma da combattimento perfetta. Munito di molteplici braccia, il titano può combattere più nemici, afferrarli e lanciarli in giro a suo piacimento. Insomma, un dio della guerra a tutti gli effetti. Mora tocca a te. Sperando di non averti fatto addormentare, voglio sapere la tua su Tianai e sulla sua trasformazione.